I tifosi del Portogallo possono tirare un gran sospiro di sollievo dopo il 3-2 raggiunto in extremis contro la Danimarca. Dopo essere andati avanti per 2-0, i Lusitani si sono fatti recuperare da una doppietta di Niklas Banner prima di trovare il gol vittoria con Varela. Al momento di lasciare l'arena di Lviv, i portoghesi sembrano sprizzare gioia da tutti i pori, sapendo di doversi giocare tutto contro l'Olanda nella prossima partita. Nonostante la sconfitta, invece, i tifosi danesi non sembrano troppo dispiaciuti.